Ciao a tutti! Come state? Che sai amore? Un telefono! Me lo fai vedere? Che ha fatto Pappino! Guarda! Wow! Ha fatto Pappino! Che bravo! Oggi vi portiamo con noi a fare shopping per Halloween! Noi andremo veloce perché dobbiamo prendere tutto per la nostra cenetta di Halloween! E mangiamo i biscotti! I biscotti li abbiamo fatti! Ma vi preparo una sorpresa! Ma io voglio vedere il tuo vestito Erika ragazzi! Guardate! Allora! Guarda! Mickey Mouse! Mamma mia che bella! Allora! Io ce l'ho! Andate più indietro perché non vi vedo! Andate più indietro! Guarda me! Allora vediamo! Sì! Le scarpe! Io ce l'ho! Mickey Mouse e Minnie Mouse! E guarda le tue scarpe! Le tue scarpe? Wow! Ma sono bellissime! Fate un girettino ragazzi! Vi voglio vedere! Wow! Ma siete così carine! Pronte? Pronte? Mangi tantissimi bacini! Che dolce! Che dolce! Che dolce amore! Ok! Pronte ragazzi! Allora partiamo! Sì! Cosa state facendo? Stiamo prendendo un biglietto! Sì? Ma volete andare al circo? Cosa ne dite? Sì! Che vuoi? Prendi due? No! Prendi quattro meglio! Anche per parti e anche per me amore! Sono quattro? Ma c'è una ratta! Cosa fai? Eh? Hai trovato la mondizia! Ma chi ha lasciato la mondizia la carta? Eh non si fa così? Dai andiamo! Chi siamo arrivati? Ecco non c'è più! Quanti hai trovato? Solo uno! Uno! A casa se non mi sbaglio ci sono ancora due! Ti ricordi? Quello che ci ha dato il signore! Andiamo! Dai che siamo arrivati! Andiamo! Spostati Vanessa! Si è incastrata! Andiamo! Cerchiamo un reparto per Halloween! Emo qua! Emo qua! Per Halloween! Così mia! Ecco! E già ho visto quello che ci serve! Guardate ragazze! Oh! Guardate! Mamma fa da questo! Ragazzi io vi voglio preparare una cenetta a sorpresa! Mamma guarda! Fammi vedere! Bella! E dobbiamoci! Cosa hai trovato? Cosa hai trovato? Che paura! Cosa Vanessa? Paura! Emo ci serve anche un carello! Che porta un carello? Oh! No! Guarda chi c'è qua! Hai paura Vanessa? Sì! Guardate la Vanessa! Fammi vedere un po' le tue... Guardate qua! È tutta sporca e se l'abbiamo colorato e non si pulisce! Ragazzi con calma! Per prima cosa dobbiamo prendere un carello! E dopo cominciamo a prendere tutto quello che ci serve! Questa mattina! Questa mattina! Gira! Oh! Tutto! La casa di carta lo sai? Quel film che mamma guardava ogni tanto! Quella è la maschia! Oh! Non è già no! Ma che paura! Che paura! Mi aiuti! Cosa dici? Mi aiuti! Prendiamo un'equilla! Sì! E qua cosa c'è? Sempre... Vediamo! Ebbè... Questa è una mattina! Un vampiro! Sì! Un vampiro o questo? Una mattina! Una bella ciao bella ciao bella ciao bella ciao! Ecco con me c'è anche la canzone Erika! Vampira! Ragazzi Erika vai a portare un carello amore perché ci serve un carello! Dai dai dai! Guardate la Vanessa! Cioè ma solo dovete guardarla! Abbiamo detto sì! Teniamo le cosine che vi doi! E lei ha cominciato a mettere tutto! Vanessa! Signorina ti devi fermare Vanessa! Passa! Questa è la zuccona! Wow! Prendiamo! Fermatevi! Oh ragazzi vi dovete fermare! Avete preso tante cose che non ci servono! Ecco qua! Di là un altro zuccona! Lo sai che questa si accende? Vediamo? No! Ecco! Ecco dentro ha... Qualcosina! Vanessa! Vanessa prima dobbiamo organizarci! Signorina! Guardatela! C'è! Ho preso tante zucche! E anche questa! E anche questa! Adesso le devo mettere a posto! No! No? È mia! Vorrei prendere tutte quelle cosine? Sì! E qui c'è un buon stante! C'è un buon stante! E se c'è questa zucca? Qua! E qua guardate! C'è questo cerchetto! Anche questo! Wow! Facciamo un girettino! Va bene! Vediamo tutto quello che ci serve! Guardate! Questo è un serpente! Possiamo prenderlo perché faremo scherzo al nostro papino! Sì! Erika, Vanessa, venite qua! Ho trovato una cosa da tanto tempo! Abbiamo detto di prendere un serpe! Erika! Cosa dici? Prendiamo! Sì! Per Papi! Per Papi! Anch'io ho detto prima che per Papi! Mi faremo scherzo! Si prende un tante! No! Solo uno! Non ci servono tanti! E guardate qua! Wow! Ma che grande! Guardate! Qua ci sono le ragnatele! Guardate! 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 No! Ma questo non so come si usa! Lo devi tenere in mano! Ma lei! Guardiamo qua! Qua ci sono delle ragnatele! Una maschera! Dopo c'è un'altra maschera! E qua c'è una dentiera! Ma non mi piace! C'è un po' troppo... No! Questa dentiera no! Vediamo! Qua cos'è? L'articolo per adulti infestci! Tatuaggio per viso! Wow! C'è anche quello che ci fa troppo paura! No! Non va bene! Wow! E questo è per fare make-up! Eh sì! Questo ci servirà! Anche per fare il trucco! E' una notte di Halloween! Dove sono sparite le mie ragazze! E' quelli che sono là! Che cercano i giocatori! E la Vanessa arriva da quella parte! E guardate! Cosa hai trovato? Vediamo! Insetto fluo! Luminoso per ore! Vorrei prendere questo! Cosa avete visto? Io voglio questo! Vorresti quella bambola? Sì! Ma quanto costa? Quanto costa? Laggiù non c'è il prezzo! Ma è molto carina! E posso prenderla? Stai attenta! Perché se la prendi quella cadono tutte giù! No 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 Erika! Fermati! Fermati! Stai attenta! Guarda qua! Ho visto una cosa! Vampirina! Sapete questo cartone con la vampirina? Guarda qua! C'è la sua casetta! Mamma! Cos'hai preso tu? E' uguale questo o questo? I denti? Sì! Sì! I denti sono uguali! Quelli che hai preso tu e i denti di vampirina sono uguali! E qua cosa c'è? Mamma! Guarda questo! Mamma! Sempre una casetta! Con? Mamma! 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 Mamma mi chiede! È molto bella! L'hai preso! Ragazzi ma siamo venute a prendere le cosine per Halloween! Non è... Non è giocato lì! Io voglio! La vuoi? Dovrai chiedere a Babbo Natale di portarti una bambola uguale a questa! Vanessa! Cosa facciamo? Prendiamo le cosine per Halloween o prendiamo queste due bambole? Possiamo prendere questo! E allora qua sono in difficoltà ragazzi! Come devo fare in questa situazione? Cosa dobbiamo prendere? Scrivete anche voi giù nei commenti! Prendiamo queste due bambole? O prendiamo le cose per Halloween per la nostra cenetta? Che la voglio preparare una sorpresa! Guardate! Questo è un gioco! Lo slime del potor... Cranio! Cranio c'è! Cranio! Guarda qua! Gira la centrifuga! Muscola, colla e attivatore! Cosa ne dite di prendere uno? Halloween party! Entriamo qua! E li dovete guardare tutto! Ciao! Ecco i piattini! Wow! Finalmente li abbiamo trovati! Anche i bicchieri! Guarda! La testa di un scherzo! Ecco la testa! Wow! Ma che bella! Prova qui il cerchetto amore! Allora la testa la mettiamo a posto! E guarda qua! Anche questo è molto bello! Questo cerchetto! Ecco il gattino! Wow! Ma questo guarda Erika! Questo veramente è bello! Mettiti uno! Vediamo! Mettiti uno amore! Vediamo! Vieni vieni! Pronto? Guarda! Ciao! Sono la Mila perché oggi compie un anno di casa! Eh no! È troppo grande per te amore! È troppo grande! Erika vi faccio vedere qualcosa! Guarda cosa ho trovato! Gli orecchini! Gli orecchini! Guarda questi che carini! Guardali! Mi prendono! Mi piacciono! Ma questi sono troppo grandi per te amore! Guarda questi con la fantasma! No! Anche questi! Guardali! Che costruite! Mamma mia! Veramente! Guarda qualsiasi è una colonna! Ho le unghie o le unghie? Cosa vuoi? Unghie! Le unghie! Vediamo! Che bello! Qua è un quaderno! Un quaderno segreto sai! Qua ti potrai scrivere qualcosa! E potrai vedere solo tu! Qua è un quaderno segreto! Wow! Mi sembra troppo grande per te! Wow! Wow! Anche questa! Qua è questa! Qua è questa! Qua è questa! Qua è una fantasma! Qua è una fantasma antistress! Qua è una fantasma antistress! Tu la stringi! Guarda i suoi occhi! Sua pancia! Questa è una fantasma antistress! Ma a te non ti serve! Sei stressata Erika? Ti senti stressata? Quando si parla di prendere qualcosa è stressata, vuole tutto! I bicchieri signorina! Vediamo! Guarda questo! Bicchiere Halloween! Wow! Guarda Erika! Erika guarda questo bicchiere! Ti piace? Sì! C'è anche questo! Guardalo! Questa è più bella! Vediamo se ci sta! Sì, sta bene! Guarda! Come ti senti? Bene! Ti piace? No! Ecco! Altro! Questo! Guarda questo! Sì! È carino! Questo cerchetto! Mettilo! Vanessa guarda l'Erika! Ti piace quello? No! No! È piccolo! Sì ma è così! È fatto così! Non deve essere grande! No! Non è anche quello! Cioè ma voi non volete niente! Sì ma però mi dà fastidio! Mi dà fastidio! Guarda se no c'è questo! Guardiamo qua! C'è questo cerchetto con le zucche! Guarda! Guarda questa! Cosa ne dice? Mettilo! Vediamo se ti sta! Ti sta! Guarda! Sì! Gira la testa! Così! Guardami! Così! si sta! Si sta quello! Li vuoi? Sì! No! Questa guardiamo! Di nuovo i denti! Anche qua c'è un costume! Guarda! Questo elastico! Mamma! Che morbido! Wow! Questo! C'è questo elastico con... ...fraio! E qua! Anche questo! Guarda qua! Questi sono interessanti! Brillano! Guardate chi brilla! Mamma! Possiamo prendere questo! Ti piace? Sì! Ma vediamo quanto costa! No! Bene! Sì! A te ti piace? Sì! Mi piace! Ok! Ci sono i costumi! Ma guardate! Quale costume hai visto amore? Oh! Wow! Guarda questo! Guarda questo! Che bello! Quello con scheletro! Sì! Ma sono per maschi! Vorrei anche tu uno! Sì! Mamma! Guarda! Questo è un vampiro! Per papi! Non sarebbe male! Guarda qua! Mamma! Guarda! Guarda questo! Guarda mamma! Un palloncino! Un palloncino! Cosa? Un altro costume! Un palloncino! Sì! Wow! Che carini! I palloncini di Halloween! Questo! Sì! Con la zucca! Guarda questo! Che carino! Guardate questo! Scheletro! Cieni! Cieni! Allora il tuo telefono! Niente papi! Mi dispiace il tuo telefono! Non è più bello! Cioè la Vanessa non lo vuole più! Ma questo non vi piace? Sì! Ma anche questo? Sì! Ce l'hai uno? Io voglio questo! Con la zucca! Io voglio questo! Va bene! Allora questo lo metto a posto! Con il scheletro! Se non lo volete! E venite qua! Wow! Ecco! Cerchetto corna malefiche! Mamma guarda! E questo veramente mi piacerebbe! Mamma guarda! Cosa hai visto? Ho di nuovo la maschera! Aiuto! Aiuto! Cosa? Un'altra maschera! Wow! No! Non dicevo di questa! Guarda! Di questa! Questa è una peruca però! Ma lo sai che papino ha detto che vuole una peruca? Sì! Forse per lui dobbiamo prenderla! Sì! Lì sopra! Questo di nuovo! Trucchi! Anche qua! Questo è il rossetto nero! Se lo vedete! E questo è un... E questo è un... Cosa hai preso amore? Cosa hai preso? Carello per la spesa! Ceni! Allora non vuoi più le cose per Halloween? Vuoi il carello per la spesa? Sì! Ceni! Niente! C'è! Vanessa cambia le idee! Spesso! Guarda! Guarda questo! È un martello! Sì! 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 Cosa guardi? La strega! Vediamo! Eh! Questo è per i bambini! Wow! Questi sono per piccoli! Sì! Fate posto per i bambini piccoli! Guardate! Lì ci sono altri! Vanessa! Guarda! Guarda questa! Che carina! Ti piace! Vanessa c'è un'altra strega! Basta! Wow! Questa no è una strega! Guarda anche queste! Questo è un scheletro! Invece questo... Vanessa mi fai vedere che si illumina! Questo... Non lo so! Vanessa mi fai vedere come si illumina! Si illumina! Develo essere zucche? Non la mia no! Attenta ai capelli! Ti tiri i capelli! Ti faccio vedere! Dammi un po'! Certo! Ecco! Si illumina! Si illumina amore! Guarda che si illumina! La mia! Si illumina anche tu! Eccola! Eccola! Fermati! E poi anche tu si illumina! Oh no! No! Prova! Batti! Batti qua! Si illumina! Va bene! Si illumina! La prendiamo! Sì! Ecco! Si illumina anche la tua zucca! Cosa ne dite? Prendiamo queste due zucche? Sì! E sai cos'è ho preso ancora? Guarda qua! Cosa sono queste? Io la tele! Sì! Ragazzi restate con noi perché vi vogliamo far vedere tutte le cosine che le abbiamo preso per Halloween! Cosa sono? I piattini! Eccoli! E guada! Metti tutto sul tavolo amore! Mentre se metti tutto sul tavolo! Allora! Allora i piattini neri con le zucche! Anche i tovaglioli! E dopo? E dopo? E dopo? Sono questi scheletri! Quale piatto amore? Cosa? Ma non abbiamo preso tanti piatti! È un craio quello! E questi sono scheletri! Lo sai che di notte questi scheletri sono fluo? Guarda! È un cerchetto! Chi lo mette? Vediamo Erika! Mettilo tu! Guarda! Dopo una maschera! Cioè Vanessa comincia a tirare tutto fuori! Guarda! Un altro craio! Questi saranno il tavolo di sicuro! E cosa c'è ancora? Faccio! Faccio! Cosa c'è? Un altro scheletro! E qua sono gli occhi! Chi se sente! Guarda! Guarda! C'è! Guarda! Vedi? La bassa! Sembra vero! E dopo? Grazie! Il menù ragazze! Mangerete! Puoi giocare con quello! Ma non si mangiano! Eh sì! Invece voi sì! Guardate cosa ci hanno comprato! Ecco qua! Finalmente! Vi facciamo vedere! Il gioco che l'abbiamo preso! Sì! Fra poco faremo un altro video con questo gioco! Sì! Se questo video vi sia piaciuto non dimenticate di iscrivervi al nostro canale e di mettere tanti like! Fatelo! Ciao ciao! Cosa dici? Gli piaceranno il video? A te ti è piaciuto? Ti sei divertita? Sì! E allora se Erika sei divertita? Anch'io mi sono divertita! Ma sapete? Che mi sono divertita un sacco a correrle dietro! Cosa fai? No! Ma non si mangia! Non è buono! Ciao!